E' la tredicesima di andata, quella che si gioca oggi al Bianchelli di Senigallia tra la Vigor e l'Aquila 1927. Abruzzesi avanti in classifica con due lunghezze di vantaggio sui rosso-blu marchigiani che giustamente vogliono sfruttare il turno per sorpassare gli aquilani che a loro volta però devono trovare al più presto la prima vittoria esterna in questo campionato. Squadre confermate per entrambi i mister dopo le gare di domenica scorsa con De Feudis che fa il copia e incolla del suo 4-3-3 e Vigor che preferisce il 3-5-2 già visto al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. La prima azione sul nostro taccuino arriva al terzo quando l'Aquila chiede il rigore sul contrasto subito da Misuraga. Sacca lascia correre tra le proteste. Rivediamo con il nostro Mario Giacchetta il tutto al replay. Quattro minuti più tardi su un disimpegno sbadato di Roberto Banegas prova a calciare ma il pallone finisce sul piede meno forte del giocatore argentino. I brividi però salgono sulla schiena dei marchigiani al 28esimo quando ancora Banegas, stavolta col Mancino, fa la barba al palo lontano di Roberto. L'argentino non demorde e dopo la sua personalissima messa a punto della mira colpisce al minuto 33. Il 10 si incunia per vie centrali e appena in area scarica un mancino imprendibile alle spalle dell'incolpevole Roberto. Vigor 0, l'Aquila 1. L'Aquila che addirittura può raddoppiare al 36 ma Gueli in proiezione offensiva vede di fronte a sé Roberto che con i piedi respinge il tapin dell'esterno difensivo aquilano. La Vigor stenta a trovare il bandolo della matassa ma al 38 sullo spunto di Fernandez può mettere le cose a posto. Il dribbling è perfetto ma il mancino è un assist per Michelin così si va al riposo con gli abruzzesi in vantaggio. Nella ripresa solo 8 giri di lancette e l'Aquila chiede a gran voce il calcio di rigore per fallo su Banegas. Il 10 penetra ottimamente in area e a pochi metri dalla porta cade a terra dopo un contrasto Panchina e i giocatori si disperano quando Sacca indica di proseguire. Passa pochissimo e la Vigor pareggia. Squadra aquilana ha presa la sprovvista evidentemente ancora con la testa al rigore non concesso e Ferrara appena entrato castiga Michelin in uscita per l'1-1 che alla fine risulterà definitivo. La gara da qui in poi regala contrasti e scontri al limite con i cartellini gialli e le punizioni che aumentano a dismisura. Al 35esimo Cone scappa via a sinistra e sul cross Michelin ci mette una pezza allontanando l'insidia senigallese. Poi in pieno recupero Belloni mette la palla in fondo al sacco ma Sacca vede l'assistente sventolare e così annulla la conclusione dell'argentino. Finisce così né vincitori né vinti. Di certo un passo avanti per l'Aquila che nel primo tempo ha mostrato chiaramente di avere le carte in regola per credere ancora in un campionato di vertice nonostante il meno 7 sulla San Benedettese capolista.